numero 5 felpa con cerniera realizzata in cotone e poliestere molto calda sportiva ed elegante nello stesso tempo comfort e qualità assicurata caratterizzata da un collo alto a costine disponibile in diverse taglie e colori ottimo rapporto qualità prezzo puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 4 maglione leggero realizzato al 100% in cotone organico finiture a costine sulla parte inferiore del capo e sui polsini lavare solo a mano disponibile in diverse taglie e colori modello della nuova collezione lacosta a 20 ottimo articolo trovi il link di questo articolo in descrizione numero 3 maglia in lana merino a collo alto con piccola cerniera le finiture a costine tono su tono donano un tocco di stile a questo capo realizzato in lana ecologica un modello comodo da indossare disponibile in diversi colori in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto numero 2 maglione realizzato in lana merino eco friendly con collo rotondo a costine si consiglia il lavaggio a mano finiture a costine sui polsini e sulla parte inferiore del capo disponibile in diversi colori ottimo rapporto qualità prezzo il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso i link in descrizione numero 1 maglia a collo alto modello della nuova collezione lacosta a 20 realizzata in lana merino al 100% un marchio che combina eleganza e libertà di movimento ottimo rapporto qualità prezzo si consiglia il lavaggio a mano finiture a costine sulla parte inferiore del capo e sulle estremità delle maniche disponibile in diversi colori idea regalo per ogni occasione trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video